Tra le gole della Corbière e la splendida salita al colle della Cajol si schiude il vallone selvaggio del Bachelard. Contornata da muri a secco e da opere d'arte di inizio novecento, la route de Grandalp attraversa borghi dall'architettura tipica, pascoli fioriti, lariceti rigogliosi, prima di giungere sul colle della Cajol, nel cuore del parco nazionale del Mercantour.